Il tipo che ha scosso la buccia di banana Ma che cazzo dici? Marti! Sono 12, 5 metri di onda Puttana, guarda che roba Adferno non è piatto guarda laggiù puttanaeva cazzo guarda che roba quanti sono cazzo puttanaeva puttana che bombe porca puttana puttanaeva 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 cazzo sono montagne puttanaeva 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 puttanaeva